Grazie a tutti. 8-3 per la Marbella. 8-3 per la Marbella. 8-3 per la Marbella. 9-4 per la Marbella. 9-4 per la Marbella. 10-4 per la Marbella. Una vez, ¿se ha visto la bola? ¿Se ha visto? 10-4 per la Marbella. 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 15-4 per la Marbella. 16-4 per la Marbella. Grazie.